Finora abbiamo la disponibilità di Nervesa, Giavera, Volpago, Montebelluna, Pederoba, Valdobiadene, Vidor, Moriago. Quindi praticamente Long Plain. Quasi tutti i rivieraschi, sì. Molto importante per noi. Ed altri si possono aggiungere in questo periodo. In gergo tecnico si chiama ricorso ad aduandum ed è quello che si presenta quando si vogliono sostenere le ragioni della parte principale, in questo caso il comune di Crocetta. Il Montello sarà unito, o quasi mancherebbe Sernaglia, all'udienza del 22 settembre al Tribunale delle Acque di Roma, dove la primavera scorsa l'amministrazione Tormena ha impugnato la delibera 302 della regione del 21 marzo. Il provvedimento avvia le procedure per la gara di progettazione del bacino di laminazione sulle grave a Ciano, opera che consentirebbe di invasare circa 35 milioni di metri cubi d'acqua, così da battere eventuali colmi di piena del piave. Una partita giudiziaria ma non solo. La maggior parte dei comuni è a guida leghista, stesso colore della regione. Lo è la Tormena che ne fa però una questione di comunità. È amore per il loro territorio, è volontà di difendere un pezzo della vita dei loro cittadini, perché a fin dei conti qui viene gente da tutto il territorio circostante, quindi è giusto anche tutelare. Io non finirò mai di ringraziare il senso di coesione che sta dimostrando quest'area in questo momento, veramente incomiabile da parte di tutti i sindaci. Primi cittadini che si sono ritrovati prima a Vidor, poi a Crocetta per stabilire una linea condivisa. È nata proprio la volontà comune di provare a ricorrere per vedere se riusciamo a fermare questo scempio.